La signora è parzialmente collaborante, le chiederò quindi di aiutarmi nel trasferimento nella carrozzina. Ho già provveduto a preparare la zona di manovra, la carrozzina è alla testata del letto, al lato del suo arto più forte. Mi accerto che la carrozzina sia ben frenata e che i poggiapiedi siano sollevati. Aiuto la signora a portarsi più in avanti possibile nel letto, fin tanto che non riesce ad appoggiare i piedi. Blocco i suoi piedi e le sue ginocchia contro i miei, le chiedo di posizionare le sue mani sulle mie spalle e con una presa avvolgente posiziono le mie mani nel dorso. Invito la signora a piegare la schiena, forza signora, rottiamo e rallenterò sempre con le ginocchia bloccate, aiuterò la signora a sedersi. Grazie.